angelica bove la nostra mariconia il brano che porterà in gara saremo giovani e intanto ti chiedo come mai stato scelto tra i brani che avevi nel cassetto per tentare l'approdo all'ariston e come è stato appunto interpretare un brano così ma l'abbiamo capito subito ovviamente chi l'ha scritto ci ha messo ci ha messo tutta tutta la professionalità del mondo ci sono grandi professionisti in quanto grandi professionisti hanno fatto un bel capolavoro e io quando quando ho sentito la demo me ne sono subito innamorata ho subito pensato è lei è lei quindi è andata così rispetto alla sua partecipazione it's factor in cui magari ha interpretato anche brani sotto una chiave più intimista questo ha una vena più sensuale e allusiva che tipo di terreno stai sperimentando in questo periodo anche dal punto di vista magari interpretativo ma in questo periodo sono mi sento molto sperimentale però con quello che è poi la mia personalità quindi lo quello che porto nei prezzi questo periodo e non è altro che tante delle mie sfaccettature in questo periodo mi sento un po così un po sensuale un po schietta come sono io solo che questo periodo ho voglia di dimostrarlo e come è stato fare le audizioni come ti sentivi dal punto di vista emotivo e come ti stai preparando appunto per questo ulteriore step della sua carriera ma le audizioni l'ho vissuta è sorprendentemente bene molto emotivamente parecchio serena con la giusta agitazione per per essere un po più performante e soprattutto perché non era la mia prima volta in un contesto televisivo e su un palco di fronte a delle persone che poi dovranno giudicarti quindi sicuramente il fatto che ho fatto un talent mi è mi è servito tanto di direzione ed esperienza e quella fa sempre bene e invece che tipo di rapporto hai col festival di sanremo se c'è un brano al quale sei particolarmente legato ma al festival di sanremo mi ci sono avvicinata recentemente da quando insomma è stato messo anche sui social in quanto generazione z ovviamente capito sui social e quindi mi ci sono avvicinata così è stato molto figo da lì ho anche visto esibizioni passate quindi se mi chiedi una canzone mi viene in mente di sanremo ti direi la notte di arisa del 2012 che tra l'altro è la cover con cui mi sono fatta conoscere al pubblico italiano quindi lei senza ombra di dubbio che tipo di lavoro stai facendo in questo periodo e cosa è previsto magari nei prossimi mesi a prescindere dall'eventuale appunto approdo all'ariston ma in questo periodo sto cercando di fare quello che faccio un po da sempre cioè cercare di vivere molto intensamente la giornata e ricavarne sempre delle idee uzze delle cosine che mi possono ispirare per la musica ma anche per la mia vita per i miei rapporti quindi quello che faccio è proprio ispirarmi prendere spunto da cose che mi accadono e cose che vedo da esperienze e scriverle tutte su sulle note o su quello che mi capita fogli cose a caso muri tavoli appena mi viene un'idea la scrivo e spero che da questa cosa che sto facendo poi ne uscirà fuori un album al più presto per adesso mi limito e sono molto contenta di interpretare dei pezzi scritti da dei grandi professionisti bene quindi in attesa di ascoltare nuova musica ti facciamo il nostro in bocca al lupo per questa avventura che ti attende con la speranza magari di risentirci da febbraio viva il lupo grazie di tutto grazie di intervista eduardo grazie grazie a tutti